ciao amici i5 club il club dell'altra fedeltà sono fabrizio ed in questo video come di consueto parliamo di musica parliamo di musica al solito come siamo soliti fare in maniera leggera simpatica almeno spero è più che altro interessante cerchiamo sempre di scoprire qualcosa attraverso i nostri ricordi attraverso gli aneddoti ed altro ed oggi proprio da un aneddoto voglio voglio passare che racconta un po di cose l'aneddoto è che un giorno come mio solito tanti tanti anni fa mi sono recato dal mio solito pusher di musica tanti anni fa fine anni 80 anni 80 non c'era tutto questo ben di dio internet alla comunicazione la divulgazione quindi in autonomia oggi possiamo scoprire anzi ci fanno scoprire siamo indotti a scoprire ed allargare gli orizzonti bene in quegli anni non era non era possibile fare questo quindi o ci si metteva di impegno alla ricerca nello studio di cercare musica insomma buona sostanza oppure doveva fidarti al pusher io ho avuto una enorme fortuna sia per lavoro che peraltro sono entrato in contatto con una persona con una personalità nel mondo della musica che è rino colgo l'occasione anche per salutarlo ringraziarlo e tanto che non ci vediamo ma ci sentiamo comunque bene rino critico musicale lavorava in una in una struttura di distribuzione dischi ed era per ovvie ragioni al suo lavoro sempre avanti aveva una finestra un orizzonte più allargato e solitamente io in quei tempi avevo un punto vendita un negozio il sabato pomeriggio era dedicato nell'intervallo del pranzo fra le 12 e 30 alle 14 e 30 l'ora di riapertura ogni sabato prendevo mi muovevo andavo in questo magazzino dove lavorava sto carissimo amico e non facevo altro che prelevare un pacco di dischi che erano stati selezionati in anteprima per me il caso è questo primi anni 90 fine anni 80 non ricordo esattamente fra i tanti dischi trovo una particolarità un bellissimo cd un cofanetto un disco molto bello esteticamente molto particolare realizzato molto bene e di lì rino mi porta a scoprire lalo shifrin e di lui voglio parlarvi oggi lalo shifrin è un ragazzo nato nel 32 argentino che probabilmente non dice nulla come nome a molti di voi forse a tanti sì ma nelle nostre orecchie di musica ne ha ne ha fatta passare tanta ne ha creata tanto una su tutte la più importante probabilmente la più famosa il personaggio che ha scritto il tema di mission impossible ha scritto il tema di staschi ha ha fatto musica da film leggete la sua biografia è incredibile e ha praticamente dato anima attraverso le musiche a tutta la saga di spettore callaghan ragazzi un genio secondo me un fenomeno la sua formazione parte da ragazzo ed ha pensate studiato è stato allievo del padre di bar e boom quindi stiamo parlando di una formazione importante anche a livello orchestrale classica ma la sua inclinazione jazz pianista lo ha portato appunto a realizzare soprattutto a dedicarsi alla emozione della musica quindi a cercare di emozionare lavorando con molti registi con molte produzioni sia serie tv che che film l'oggetto di oggi è al disco a quale torno è the dissection and deconstruction of the music a un titolo incredibile ragazzi non riuscirò mai a memorizzarlo ma è un disco realizzato nel 66 in memoria del marchese de sad e praticamente è una composizione di brani è un è una collezione di brani di una bellezza dal mio punto di vista incredibile di una raffinatezza di un'eleganza unica è uno dei dischi è uno dei soliti due dischi che porterei sull'isola deserta ormai credo di essere a 4 5 mila dischi però insomma magari cambio isola me ne porto due per isola e poi muovo per isola è un disco bellissimo perché a distanza di tanto tempo costantemente riesce a donare emozioni profonde a me in me crea un'emozione particolare ogni volta che riascolto uno dei brani di quel di questo disco riesco ad immergermi in una bolla probabilmente per l'emozione iniziale quando l'ho ascoltato le prime volte ma sono convinto per la profondità della dell'esecuzione della scrittura e quindi della melodia con grandi doti fra l'altro di improvvisazione un ottimo esecutore fra l'altro e quindi riesce tranquillamente a riportarmi in una bolla e a farmi dimenticare ad estragnarmi dal dal contesto è uno di quei dischi che adesso lo trovo su tida su kobuz senza problemi mi permette di staccarmi un momento da quello che sto facendo è uno di quei brani terapeutici per me uno di quei dischi terapeutici e quando ho necessità o voglia di estragnarmi da qualcosa riconcentrarmi su qualcosa lo metto su e vengo trasportato in questa atmosfera molto molto evocativa soprattutto la bella nota è che il disco la confezione era veramente molto bella si apriva in quattro all'interno il disco non aveva nessuna dicitura era il color crema e con tutte le istruzioni interne belle fotografie bei caratteri veramente un disco molto interessante peccato che questo disco questo mio disco al quale ero molto affezionato me l'ho anche segnato purtroppo è sparito e quindi non è più nelle mie nelle mie disponibilità adesso ne sto cercando qualcuno ma probabilmente negli stati uniti o in canada riesco a rientrare in possesso di una copia tra l'altro se la fan pagare anche cara ripeto perché è stata una edizione limitata bene lalo shifrin non ha scritto ovviamente non ha fatto solo questo album io vi invito a navigare a entrare in profondità nella sua discografia nella sua biografia per comprendere un po di questo personaggio delle sue note del suo modo di suonare e perché no magari partendo proprio dal tema di mission impossible che è insomma è un classico è un classico assoluto bene ragazzi buona musica buona musica con lalo shifrin e mi raccomando un'ora e mezza di musica al giorno così ci laviamo via tutte le tossine ok ciao a tutti abbiamo terminato giusto il disco è sparito nel senso che è stato grattato quindi a te che ce l'hai che il mio disco prima o poi ti troverò grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti